Marco Gentili, mister della Juniores del Ciliverg, inizia una nuova stagione per la Juniores, quest'anno si giocherà il campionato nazionale vista la Serie D per la prima squadra, si parte oggi con gli allenamenti, sarà una stagione lunga e difficile? Sì, sarà una stagione lunga e difficile, per la prima volta sfruttiamo il merito di altri, siamo contenti che la prima squadra sia stata promossa attraverso il ripescaggio in Serie D e quindi usufruiamo di questa grandissima occasione, ho detto ai ragazzi che per tutti, per noi, per lo staff, per loro, per i giocatori è un'occasione importante, incredibile, abbiamo credo 125 allenamenti da qua alla fine dell'anno, dobbiamo sfruttarli tutti per migliorarci, la cosa che chiederò, appena cominceremo l'allenamento, è per ognuno dei miei ragazzi che ognuno di loro si ponga un obiettivo, un obiettivo da raggiungere nel medio-lungo termine per poter ambire a fare un salto nel campo di là, quindi dove si allenano i grandi. Sono un esordiente per questo campionato, è un campionato, già il nome stesso lo dice, che si gioca a livello nazionale, quindi sarà sicuramente più impegnativo. Il lavoro che faremo credo che non cambi molto da quello che abbiamo fatto negli anni scorsi, comunque abbiamo partecipato a un campionato regionale A, campionato abbastanza importante, è chiaro che fisicamente ci sono delle differenze, abbiamo cercato di colmare questo gap con 13-14 nuovi innesti, anche per questo abbiamo cominciato oggi per riuscire a conoscerci meglio, poi dobbiamo come sempre far parlare il campo, le parole oggi, il 16 agosto, contano poco.